Al Torrini di Sesto Fiorentino si disputa l'anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di eccellenza toscana Gironie B, tra i rosso-blu della Sestese e gli arancio-verdi della Bucinese. La squadra di Mister Gutili, reduce dalla sconfitta sul campo del Porta Romana, milita in piena zona play-off e cerca punti pesanti con la Bucinese per centrare l'obiettivo. La giovanissima compagine fiorentina, squadra ben messa in campo, rapida e dotata di ottime individualità, affronta il match con 10 degli 11 titolari sotto i 22 anni e Collivoriano Cume, classe 97, in panchina dopo l'esordio dal primo minuto di domenica scorsa. Avversario non dei migliori per Mister Coccollini, che dopo essere tornato a muovere la classifica contro la Rignanese, tenta oggi di proseguire questo percorso di risalita per allontanarsi dalla zona play-out. Costretto a fare a meno di San Severino fuori pesqualifica, il mister della Bucinese manda in campo Cattedra dal primo minuto, a comporre la linea difensiva con Simoni, il rientrante Simone e Pestelli. Più avanti pesa l'assenza di Sacconi per squalifica, quindi Pavani supportato da Mecocci, Gardeschi e Taglia da Tela, con Capacci pronto ad entrare a partita in corso. Arbitra il signor Martire della sezione di Grosseto. Seguiamo adesso le migliori azioni della partita con le immagini a cura di Nedo Marziali. Il primo Highlights è della Sestese. Marzierli penetra pericolosamente in area arancio-verde. Solo una provvidenziale uscita di D'Ambrosio impedisce all'attaccante rosso-blu di sbloccare il risultato. Tre minuti dopo è Vezzi, che ci prova con un tiro da fuori che finisce alto. L'occasione ghiotta per la Bucinese arriva al trentaseiesimo. Punizione dalla sinistra di Mecocci. Pavani non riesce però a trovare la deviazione vincente. Ancora la Bucinese in avanti al quarantesimo con Mecocci. Il tiro del capitano della Bucinese però finisce fuori. L'arbitro segnala due minuti di recupero e a 20 secondi dal quarantasettesimo la Sestese sblocca il risultato. Botta da fuori di Aldrovandi. Risposta di D'Ambrosio ma Regoli è il primo ad avventarsi sulla ribattuta e di testa segna l'1-0. Termina così il primo tempo. Risultato severo per la Bucinese al termine di una prima frazione di gioco molto equilibrata. Nel secondo tempo la Bucinese rientra in campo con la voglia di fare la partita e un atteggiamento encomiabile. Subito viva dopo tre minuti la Bucinese dalle parti di Fedele. Cross di Donadi, colpo di testa di Pavani e parata del portiere della Sestese. Due minuti dopo Mecocci si carica la squadra sulle spalle. Saltato elegantemente Francini il capitano della Bucinese si invola verso la porta avversaria ma al limite dell'area viene atterrato fallosamente. Da questa punizione nasce il pareggio. Prosperi impegna Fedele, non perfetto nell'intervento. Ne approfitta Simoni che con un tapin vincente riporta il risultato in parità. La Bucinese prova a sfruttare il buon momento e continua ad attaccare. Scambio Gardeschi Pavani, palla Mecocci che serve perfettamente e taglia la tela che impegna Fedele con un gran tiro che però non trova il gol del raddoppio. La Sestese prova a rialzarsi dopo l'inizio incandescente della Bucinese. Cross di Vezzi dalla sinistra ma Marzielli non riesce a trovare la gioia del gol. La partita termina così sull'1-1 con le due squadre che sul finale si accontentano del pareggio. Anche 6 punti la Bucinese meritava qualcosa di più. Partita positiva comunque per mister Coccolini. Un punto in più verso la salvezza.